finché c'è vita c'è speranza buongiorno massimiliano buongiorno paola buon pomeriggio buonasera chiunque ben trovati a tutti esatto qualunque sia diciamo la porzione di giornata in cui ci state ascoltando cari amici e cari amiche all'ascolto comunque sempre una buona giornata ogni giorno di sera benvenuti dunque alla nostra trasmissione pura come sempre del movimento per la vita però oggi abbiamo degli ospiti vero Anna Paola? importantissimi li vuoi annunciare tu per favore con la tua bellissima voce grazie anche tu hai una bellissima voce anche perché sono molto contento siamo molto contenti perché gli amici sono sempre benvenuti qui a Radio Speranza e qui in questa rubrica del movimento per la vita e parliamo degli amici dell'associazione Wolf e poi ci diranno loro di che associazione si tratta li presentiamo subito sono il presidente Antonio Sorrentino e la vice presidente Maria Renata Di Giuseppe ciao benvenuti benvenuti da noi grazie per aver accettato l'invito grazie 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 allora voi siete dell'associazione Wolf Pescara ho detto bene Pescara Castellammare Pescara Castellammare ci potete spiegare di che cosa si occupa Wolf è un nome particolarmente come dire carino insomma anche evocativo allora abbiamo scelto di chiamarci Wolf perché siamo partiti dall'idea di cosa significasse in inglese la parola Wolf e da questo è venuto fuori l'acronimo Wide Organization of Leadership and Friendship traducendo un'ampia organizzazione di guida alla solidarietà e all'amicizia e quindi si sposa benissimo anche con le finalità del movimento per la vita anche se è un acronimo ci è piaciuta questa traduzione che corrisponde alla parola lupo il simbolo che abbiamo scelto del lupo marsicano ci rappresenta anche da un punto di vista territoriale perché siamo abruzzesi poi direi orgogliosamente abruzzesi inoltre è un animale fedele si unisce per la vita con un'unica compagna vive in branchi quindi questo significa solidarietà, amicizia e rispetto reciproco all'interno del branco ognuno ha il suo ruolo questo aspetto rende il branco una società meritocratica perché per assumere il ruolo bisogna esserne capaci ognuno con le proprie competenze concorre al gruppo e per questo motivo tutti collaborano nelle attività del branco che sono la caccia e la difesa del territorio sono solidali fra loro, si aiutano nel bisogno quindi la nostra associazione di volontariato opera con i suoi progetti di solidarietà e di formazione prevalentemente sul territorio aiuta le persone in difficoltà aiuta nella formazione dei ragazzi soprattutto nell'ambito scolastico prevalentemente insieme alle altre associazioni di volontariato e alle istituzioni scolastiche e di stimolo per le pubbliche amministrazioni e quindi da tutto ciò che noi abbiamo pensato di operare viene il motto insieme in aiuto della comunità eh che bello, questa parola insieme Anna Paola vi colpisce sempre colpisce non solo te, colpisce anche me soprattutto perché siamo in un periodo in cui difficilissimo che stiamo superando e se non lo superiamo insieme non ci riusciamo secondo me quindi ancor di più è necessario rimanere insieme il più possibile siete d'accordo con me? D'accordissimo ed è per questo che noi ci siamo riuniti con un gruppo di volontari e operiamo per la solidarietà perfetto tra l'altro noi ci siamo incontrati proprio sabato scorso Maria Renata ci vuoi dire perché ci siamo incontrati? che è successo? Allora la nostra organizzazione principalmente si occupa di raccolta fondi per cui noi organizziamo degli eventi culturali sempre finalizzati alla solidarietà e alla raccolta fondi per cui noi ci siamo incontrati proprio per omaggiare quelle associazioni che sotto il covid e durante la pandemia hanno continuato a lavorare per la solidarietà perché il vero volontario è quello che non si ferma davanti agli ostacoli anzi gli ostacoli sono un incentivo per continuare a lavorare per gli altri per le categorie di disabili per le categorie meno abienti e per le famiglie in difficoltà ci siamo occupati tante volte anche dei bambini abbiamo una bambina orfana etiope adottata a distanza abbiamo collaborato anche con il Movimento per la Vita e con il CAV il centro di aiuto alla vita avete riempito i nostri magazzini e centri di distribuzione diciamolo pure ecco sì ma sai cos'è che il volontario è quello che agisce in silenzio e quindi soprattutto agisce con amore e non ama diciamo tanto divulgare quelle che sono le buone azioni però bisogna farlo anche per insegnare agli altri che non ci si deve fermare di fronte alle difficoltà allora da quanto tempo esistete? voi come succede più o meno? allora noi ci siamo occupati di volontariato da tanti anni e l'8 di marzo del 2020 casualmente abbiamo costituito l'associazione il Wolf casualmente dico perché non sapevamo che il giorno dopo ci sarebbero state le restrizioni del Covid ci siamo diciamo raggruppati nell'associazione ma siamo un gruppo di amici no no avete fatto benissimo ma era giusto per dare un po' delle coordinate tutto qua sì sì perché come sappiamo il terzo settore il cosiddetto terzo settore è pieno di associazioni quindi se noi riusciamo a fare delle distinzioni magari le persone comprendono meglio ecco perché e volevo sapere quando scegliete dei progetti da sostenere non finanziare almeno la parola finanziamento in questo caso credo che non vada bene dico sostegno ci sono dei no a parte delle motivazioni che ci saranno sicuramente però ci sono dei parametri a cui voi fate riferimento o è una cosa istintiva che uno dice scelgo questo perché mi colpisce una certa cosa rispetto ad un altro allora premettendo che uno vorrebbe aiutare tutti chiaramente certamente assolutamente allora la nostra attività di volontariato spazia dai malati sostegno ai malati disabili poveri vedove anziani sostegno al debole al debole e in difficoltà quindi non so se c'è un disegno divino questo non lo so però veniamo attirati da persone che veramente hanno bisogno quindi voi agite distinto diciamo così noi agiamo distinto ma soprattutto anche su richiesta sì perché siamo contattati da persone che hanno bisogno e quindi ecco perché penso che ci sia dietro un progetto divino perché ci vengono le richieste le richieste ci vengono da ogni parte per cui noi siamo molto contenti di poterli aiutare vuol dire che le persone si affidano a voi con amore certo certo perché abbiamo forse abbiamo creato un'associazione che è da fiducia e agendo nella trasparenza e nella precisione nella trasparenza noi abbiamo forse acquisito stima da parte di molti che si rivolgono a noi non forse sicuramente e faccio un inciso abbiamo anche dei sostenitori esterni che non volendo far parte di associazioni per principio quando abbiamo bisogno di aiuto ci danno il sostegno economico ci danno materiale ci danno vestiti addirittura abbiamo una persona che non nomino che quando c'è bisogno di di comprare qualcosa ci da 100-200 euro senza senza nessun problema ha fornito delle biciclette ha fornito dei vestiti bellissimi per bambini di un nipote che non li serve più giocattoli cioè praticamente non è detto che debba esserci l'iscrizione il sostegno può venire anche dall'esterno ecco diciamolo questo non è detto che ci serve l'iscrizione perché molto spesso uno pensa mi devo scrivere se no assolutamente quindi questo è un punto in più a vostro favore e poi c'è un'altra cosa che rappresenta un sostegno in questo caso forse non materiale ma forse in realtà ancora più materiale del materiale e parlo della musica c'è qualcuno qui con noi che se ne intende di musica un po' vero Renata è un bravissimo soprano io per professione sono tutt'altro che un soprano lirico però però la mia passione è quella per cui quando posso io diciamo mi esibisco per solidarietà e quindi sono a disposizione c'è una notte naturale allora dai diciamo così beh è un dono di Dio la mia voce perché una voce mi dicono particolare intanto noi siamo pronti ad ascoltare qualcosa poi tu ci dirai di che si tratta in particolare va bene va bene grazie grazie La terra e la terra E' un'angelo santo. 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 Per cui, al di là della credenza o meno, penso che la figura di Maria, della nostra madre, abbia ispirato tanti. Poi ottobre è anche il mese degli angeli, quindi ricordiamo anche questo. Sì, anche di quei meravigliosi ageli che molti di noi hanno ancora qui in famiglia, che sono i nonni. Ottobre è anche un mese dedicato ormai ai nonni. E' un'angelo santo. E penso che la musica sia un tramite tra il cielo e la terra. quando, diciamo, è raggiunge questi livelli. E quindi l'ispirazione, il dono. Non dimentichiamo mai che questi grandi artisti traggono la loro ispirazione e la loro capacità, perché io ritengo che sia un dono di Dio. Come del resto è anche la mia voce, è un dono di Dio. Ma ogni cosa, se ci facciamo caso, è un dono. Noi non ce ne accorgiamo. La vita è un dono. Certo. A parte che la vita è un dono, però ogni cosa che ci capita può essere un dono. Ovviamente. E anche dal male si trae sempre il bene, perché comunque è uno stimolo per far sì che non accada più quello che accade. E quindi tutto ciò che ci circonda sicuramente ha un disegno dall'alto che ci consente di migliorarci, che ci consente di avere sempre più solida la fede per chi ce l'ha. E comunque la ricerca della fede per chi non ce l'ha, perché molti nel passato hanno cercato in tutti i modi di dare un senso alla vita. Il famoso di chi siamo, dove andiamo, da dove veniamo. E poi c'era il discorso del canto, che mi pare che fosse Sant'Agostino, chi canta prega due volte. E quindi anche con il canto, abbiamo visto anche in alcuni film di fantascienza, la musica è forse l'unico contatto che potremmo avere con degli extraterrestri che non conoscendo le nostre lingue, però la musica la comprenderebbero. Addirittura è successo varie volte che persone che erano in coma, ascoltando una musica, si siano risvegliate. La musica secondo me è un contatto universale, quindi ora diciamoci la verità. E la cosa bella dell'iniziativa di sabato è stata che musica e poesia, perché c'è qualche poeta qui tra noi, mi sa. C'è un poeta, credo, vero Antonio? Sì, anche io sono come Luciano De Crescenzo, faccio tutto tranne quello per cui ho studiato. Perché praticamente anche lui è ingegnere elettronico, però l'unica cosa che non faccio è occuparmi di elettronica pura, tutto il resto, compresso anche la letteratura, la poesia. E' una dote, tu hai un dono a proposito di doni, uno dei doni è questo, insieme ad altro credo. E ringrazio Dio che praticamente mi consente di scrivere in pochissimo tempo un frutto di ispirazione. A volte mi sveglio la notte, ho il quadernino sul comodino. Anche tu, il tacquino, come me, come me. Altrimenti poi il giorno dopo passa tutto. Eh sì, quindi ti svegli in piena notte e scrivi. Cogli l'ispirazione e dopo ti riaddormenti. Immaginiamo. Sì, sì. Ti riaddormendo felice di non aver perso quello che mi è venuto in mente. Bene, no, no, no. Noi abbiamo ampie prove di tanti che lo dicono che la notte è qualcosa che ci mette in contatto con l'aldilà. Quindi può darsi pure che queste ispirazioni vengono di notte appunto perché non sono mie ma mi sono suggerite. Allora io penso che l'ispirazione venga dal cuore. Indubbiamente. Dal cuore e dall'anima, quindi chi lo sa, sicuramente c'è qualcuno che ci guida. Ed è stato bello anche che sabato voi abbiate voluto condividere questo momento con altre realtà come la nostra, come la Croce Rossa, vero Renato? Allora guarda, noi abbiamo omaggiato e stiamo continuando, lo faremo, anche nel mio prossimo anno di presidenza, nell'anno perché dal primo di gennaio sarò presidente, quindi continueremo questo filone di gratificazioni alle associazioni che appunto hanno continuato ad operare e non si sono stancate e fermate. Ricordo che madre Teresa diceva che siamo una goccia nell'oceano, ma guai se quella goccia venisse a mancare all'oceano. E quindi noi riconosciamo, vogliamo omaggiare le associazioni di volontariato, sia a livello nazionale che a livello locale. Abbiamo cominciato l'anno scorso con la Croce Rossa, la protezione civile Valtrigno di Pescara e la misericordia di Pescara. Poi sabato scorso invece ci siamo occupati di omaggiare il presidente del Movimento per la vita di Pescara, Maria Gina Fratalocchi, il presidente del Movimento per la vita di Montesilvano, Massimiliano Spiglietti. Non lo conosco. Chiò che non conosce. No, non lo conosco. Sì, sì, sì. Il presidente del centro di aiuto alla vita di Pescara, Patrizia Ciaburro. E quindi perché? Perché sono coloro che, ripeto, instancabilmente non si sono scoraggiati di andare incontro alle famiglie e di promuovere il messaggio della vita. E poi c'era la Croce Rossa. C'era la Croce Rossa, il presidente della Croce Rossa di Pescara Gianluca Desiderio. Abbiamo omaggiato anche il presidente dell'associazione uguali nello sport Giuliano Visini, Ruggero Visini che è colui che allena i ragazzi e gli atleti disabili sportivi. Prendiamo un impegno perché c'è proprio pochissimi secondi abbiamo. Magari in una delle prossime puntate ci occuperemo proprio di loro. Benissimo, grazie e ne sono felice. Sarete richiamati. Una cosa ultima e importante che volevo dire è che l'omaggio è stato offerto dal Wolf ed è stato consegnato dall'assessore alle politiche sociali del Comune di Pescara, Nicoletta D'Inisio. In pratica abbiamo fornito un congruo assegno di 2.000 euro dalla raccolta fondi che abbiamo fatto nel concerto all'Aurum con il maestro Antonio Cericolo del 20 di agosto. Benissimo, per sostenere le attività sportive di spessi reali. Per sostenere le attività sportive dell'associazione. Ciao, ciao, grazie.